Signorotti, Aguna Matata, ben ritrovati dal vostro CiccioCamber89 Siamo tornati qua in un nuovo video di Rainbow Six Age Primo video classificata, l'abbiamo persa malissimo Secondo video, dove vorrei capirci un pochettino di più Vediamo oggi che cosa riusciamo a fare Let's go! Mannaggia la morte ragazzi, se non abbasso questo audio Io implodo, ma mica... Non senza chat vocale, io tanto non vi capisco Nel senso, abbiate pazienza, non me ne frega niente Ducca abi, jungs! Oh, devi stare regal! No, devi stare regal! Deutschland! Russian, Russian number one No, no! Sweden, Sweden! Sweet home Alabama! And you guys are so sweet! Ich liebe dich! Capirai ragazzi! Ich liebe schwarze Blackies! Ragazzi, dico solo, Capirai! I've been to Berlin once, very beautiful! Very beautiful! Oh, Berlin is the house! I know, I know, I was just joking! You guys drive like maniacs, all I'm saying, you guys drive like maniacs! That's true! No, please don't bad solos! No, I can't even cross the street! I almost get run over! Fendrya, 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 Fendrya! Fendrya! SONIN! You know what fucking good she is? I'm playing her! She's my main, bro! Okay, I'm sorry, my friend. Ragazzi, I... Did you ever see it? I feel like I was on Rocket League now, and I'm not kidding. You guys, all I'm saying is, you guys have hella mopeds, like everywhere, they're electronic things. Yes, I feel like they're everywhere, and it's okay like that. Protecting the bombs! All right, if you can understand absolutely something, we're on top, perfect. I remember, from here, they can do great things. So, I put it here. Attenzione, the quadro of attack has found a bomb! Bello palese! SONIN! We've got the servicios this way! Because here they always pass by one reason or another reason. One reason or another reason. The squadro of attack has found a bomb! One big one! Double wall, brother! Fuck! 5 seconds! We've got a bomb! 5 seconds! The squadro of attack has found a bomb! They are making a bomb! You guys, of course, I'm looking forward to this team. Chissà? Mi volevano praticamente scelta ragazzi Anzani non ho fino qua di metto le mine Non mi rompete le palle Ho sempre bruttissimi presentimenti Ragazzi ho paura Sono così tanto aggressivi tutti quanti Ragazzi Mi cazzi room Sto d'accordo Mi cazzi room Ok ci sta Mamma mia rega ma sto gioco è diventato Sfettato con sbaglio Non messi Perché uno è uscito da qua capito Madonna Devo uscire invece di un altro Perché faccio cagare Eh ma stava pure qua ci ho visto Sembrava di baschi Ah F*** Sfettato con sbagli Ho Fenerry Ho Mi cattato con sbagli Sono C'è il C'è c'è Il L'ultimo dico di Marto Devo ricaricare Ok quella probabilmente ho capito perché si è trattato così Nuovo caricatore Perchè era l'ologramma Oh Massissimo I difensori hanno eliminato tutti i nemici Ah a caso A caso sicuramente no Però va bene Ah mamma mia A te me sembrano Me sembrano fortissimi Cioè sarò io che ripeto sono scherzo Quello che vi pare Ma a me me sembrano fortissimi Me era manchiato Rainbow Six Se dica la verità eh Però Sono maledetti questi eh Questi sono maledettissimi Ovviamente qua va rispottato Almeno mi ricordo come c'è A me era se li mettevo due Era tutto elettrificato Oh cavolo Ok Uno per ogni Vabbè E mettiamoli tanto ho pagati Ne ho pagati Ma ragazzi non Siamo a 10 secondi Siamo a 10 secondi Oh ma 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 io mi occupo di queste due Che mi ricordo che non era mai Anche sperata con me La scuola d'attacco ha trovato una bomba Prepararsi all'azione nemica Ok Ok Ho piazzato il dispositivo Ok Ho piazzato Però stiamo calmi Che qua sono piazzato Cazzarola eh Qua qua Sono piazzarola eh Il mio ortila è attivo Sono così Che non mi pare brutto Qui hanno già piazzato Ehm C'è il mio mobile C-2-2-3-2 Tipo di niente Tipo di niente Sì ok Però qui abbiamo chiuso tutto 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 Io non c'ho granate Io non c'ho niente Le telecamere Deveme vedere una cosa ma Perchè uno sta da sti pezzi Uscite te Questo io Ragazzi mi voglio vedere un attimo Bene le videocamere No, niente, prima Qui come stiamo messi Ma questo mi ha rotto proprio i coglioni, regà Cioè questo veramente è odioso, eh Cioè questo veramente è odioso, regà Beh che palle Ok l'ho pingato Scusatemi non volevo mai nella vita Ok io È stato chiuso Regà, secondo me non posso stare dentro Non posso stare dentro la zona di difesa Quello divento proprio inutile Difendete l'area e proteggete le bombe Allora ragazzi qua Stiamo al trenino Quindi rinforziamo qua Almeno questo Il minimo me lo ricordo ma Brutta, brutta storia Ricarico l'arma Le coglioni È vero me lo ricordate Siamo a 10 secondi 5 secondi Però devo fare molta attenzione Tanta, 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 tanta Tanta, tanta Bomba localizzata Ah non so perché Preghiamo il tempo So perché l'ho presa Loro mi sembrano Non vedi comunque Che fanno queste cose no? Ok Stiamo così Siamo passata Qua stessa 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 È stata una bella sventagliata Ma per quel motivo Che palla Che rinculo C'ha la mia arma Gigantesca La squadra d'attacco Ha piazzato un disinnescatore Vicino a una bomba Disinnescatore individuato Disattivatelo Vi hanno scoperto Torna indietro L'operatore è dato rimasto Regà Difensori eliminati Che fanno vedere una partita Una partita Che potrebbero cambiare le carte in tavola perché gargamella è uscito di là non si fa non si dice però potrei godere Pochi quando restano da tanto tempo rimangono a giocare solamente quelli bravi no Regà ripeto Sarà che io non so capace ma le lobby in cui mi sta matchando non sono assolutamente al mio livello Cioè sto prendendo delle smanganellate giganti Non riesco a sistemare la sensibilità Perché non riesco a sistemare questa sensibilità che è un po' troppo E loro hanno una mira incredibile regà non so non so perché non Anzi c'è tanto che me fa fare classificate Vediamo la verità Ancora 5 secondi Penso di aver perso il drone Raggiungete la bomba e disinnescatela Occhi aperti per il nemico Stiamo cercando di qua Cambio caricatore Ragazzi ma Niente di che È giusto per spregare un po' le munizioni Ma guidatevi Poi vorrei andare a usci qua Ah io me fido dai Eh 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 Piazzamento scudo finestra completato Ok Ok Volei giocare anch'io dire qui Che figata è sto coso? Che figata è sto robo? Ok Ok Io scrivo Cazzi quando volete io vado Rimane un nemico Eh mi è morto Ok questa roba è fichissima Ok Ok Beh ovviamente io sono andato dove è l'amico Che giusto Difensori eliminati Io c'avevo una mappa intera dove andare Sono andato in bocca al nemico ragazzi È stato bellissimo Che potete dire raga Io mi sento veramente Inutile Come pochi raga Mamma mia raga Come posso rendermi utile O con montagne Montagne mi rendo molto utile A questo punto A sto punto Codiamocela con montagne E vediamo che cosa succede Raga non lo so Dipende comunque anche Da come sono i vostri feedback Perché mi rendo conto che Probabilmente su Rainbow Six Non sono in grado In questo momento Di potervi portare dei contenuti Raga Non gliela faccio Cioè mi rendo veramente conto che Dovete usare il drone Per trovare un bomba Ci sto proprio Il drone ha trovato una bomba Il drone ha trovato una bomba Ok man Allora 10 secondi È corretto 5 secondi All'inserimento Bomba individuata L'obiettivo è raggiungerla E disinnescarla Ragazzi è arrivato il momento Di farvi sognare Me ne rendo conto Me ne rendo conto Bro Non c'è assolutamente bisogno Di quel piccolo scooter Fammi passare Fammi passare Che penso io Uno sta qua Eh ragazzi Io uno l'ho fatto Io uno l'ho fatto Abbiate pazienza Io uno l'ho fatto Il mio dovere da montagna Più o meno l'ho fatto L'ultimo nemico è rimasto E va bene così E va bene così Sono orgoglioso Di quello che ho fatto Ragazzi Montagna È uno dei miei best E' uno dei miei best Unesco bomba avviato Proteggete il disinnescatore E' un bannato Molto bene E' incredibile Che non vedi E' questa cosa è mancata No Fortissimo Perché Quel coso piazzabile È una roba incredibile Ragazzi Fortissimo Peccato che Quelli da là Uno da là È andato via Perché sennò Era più divertente Dovete usare il drone Per trovare una bomba Il drone alleato Ha trovato una bomba Ancora dieci secondi Viene in nuovo turno Andiamo di fare Qualcosa di buono Match point Tra l'altro Procedere Di disinnescare la bomba Che bello Ok Bravissimi Allora Stanno Supra 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 Io me ne posso andare Sotto 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 Mamma mia E vabbè ma io sono rincoglionito che c'è posto fa Il disinnescatore è di nuovo nostro Ah vabbè Bravo Ah santo piripillo Che schiatole Io vedo tutti con sta mira bella precisa Io faccio di un cacare ragazzi Mostruoso E' vero che sono Oh ma quanto è che non gioco a Rainbow Six ragazzi Bravissimi Fateli tutti fuori per cortesia Carriatemi Carriatemi per favore La confetto Questa roba è bellissima Ma di che stai parlando? Salo anotto in posizione Hai capito? Hai capito? Disinnescatore attivo Svecetelo a tutti i costi Cambio caricatore Che figata è sta roba Ecco qua Un operatore alleato rimasto Bella colpellata No 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 peccatissimo FG E di moro io Morono tutti Round 6 La missione è fallita Dobbiamo individuare una bomba Questa hadata Questa THIS Moistimato Svegliata Capito Questa sontà Non ci fanno Grazie Notre Che figata Questa Ancora dieci secondi Cinque secondi Dai Zoom proviamo a fare Il drone ha trovato una bomba Proviamo a fare qualcosa di Di decente Non dico di figo Ecco questo è stato Il massimo Che io potessi fare Il massimo proprio Non vi aspettate niente Per favore Chiedo scusa per i player Regalanti Che è arrivato all'esterno Ma non è Va in mezzo Di crepaccio è malissimo Madonna mia C'è qualcuno che ha bisogno Un po' di adrenalina Un po' di cosette carine Ditemelo Tiro la flashbang Ti rilascio flashbang Tiro pure io una flashbang va Così Per divertimento Non è che uno c'è morto C'è morto qua Stanno notto su questa finestra Ok Io so che Uno ipotizzando Come lo tolgo Porcaccio Eh raga C'era andata Ok Rimane un nemico Ok io raga Mi sono tuffato Devo dire Difensori neutralizzati Posso dire Tutto merito Degli crash Che li ha destabilizzati Vabbè Questi Bianchi li colpiscono Un testa E muoiono Ma come round 8 Ragazzi ma non era un match point Una volta Ma non finisce più questa partita Io non sto Proteggete le bombe Sempre qualcosa faccio Però capite che Occhio del male piazzato Occhio La posizione di una bomba è compromessa Dorsine pronte Ricarico arma Mancano 10 secondi Chi va recuperata Mancano 5 secondi Sì Sono mette mine Bumbe Bombetti Bombettone Ragazzi Stavo cercando Veramente tutto quello che posso Occhio del male pronto Veramente tutto quello che posso Ragazzi Stavo Ok Così almeno Stavo belli Tranquilli Bravo Avrei fatto lo stesso Anche Avrei fatto lo stesso Anche io Vai Cominciamo Due Ringati Stanno sotto È il mio momento L'ho battuto Paffa Però l'ho abbattuto Tutti presenti Tutti presenti Senti che l'ho abbattuto Io eh Thank you so much Bro Zero Was there And shot A Cagli E tu Cagli 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 Questa è una mia bomba però eh Questa è stata una mia bomba però eh Ben oggi Cagli Io sto veramente con uno stifo Devi stare Calavoli Intento vin Sì Sì Ma Questa musica che sicuramente mi darà copywriter No merda Però vedi una volta che era in ologramma ci avevo preso Vaffanfrega a me Vaffanfrega a me L'ultimo nemico rimasto Dovrebbe sta tipo qua Ma dai però l'ho fatto anche un predict Ho anche sparato un predict Va bene che lui ha un mirino diverso Però neanche a far così Non me lo merito Non me lo merito Però vedi ho sbagliato qui Perché volevo fare qualcosa in più Volevo fare qualcosa in più E... Un operatore alleato rimasto Stiamo fatti in bozzi Che fa questo? Restano 15 secondi Che fa? Non ho capito Mancano 10 secondi Oh sa dov'è Restano 5 secondi Planting La squadra d'attacco ha piazzato un disinterno Distruggetelo Difensori eliminati Missione fallita Raga questo è bravino Abbiamo ucciso praticamente lui tutti i turni Madonna una partita infinita Raga una partita Raga una partita Infinita Porca miseria Match point E te Supplementare Va bene Capriamo Stiamo pure un attacco Perché ti dico Ciao core Perché blackbird A me piace A me piace Blackbird Mi prendo il toucher Mi prendo il toucher Voi che prendete? Non sta a prendere un cazzo Raga Posso prendere Montagna Dai Devo essere comunque utile alla squadra In questo turno Sono stato stupido Perché sapevo che lui usciva da là E dato che stavo con poca vita Giovevamo camperà Me la dovevo camperà Perché adesso vi voglio far vedere Che un minimo soffà Non è vero mai Il drone ha trovato una bomba Non è vero mai Stupido Tanto vi ho trovato È tardi Vi pingo tutti Tutti vi pingo Tutti vi pingo Sì 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 Pensavo di maledita Ancora dieci secondi Ragazzi qui Possiamo Ragazzi io Ragazzi io Ragazzi io Io me la sento Me la sento notevolmente ragazzi Non so perché Ma Ho questo presentimento Ok 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 Tranquillo 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 Vado a dare un'occhiata in giro Uuuu L'avevo sentito L'avevo sentito Maledetto Sì Maledetto L'avevo sentito ragà Però mi sono girato Non so Sto a me che sto a montagna E non a quell'altro Che vedo Mi ha detto Ma la sentivo bene Raga io Mi sto guardando il turno Insieme a voi Non so Tagliato un po O meno Mi sa che Sta partita Se qualcuno Granata a frammentazione Non fa qualcosa Di bellissimo Uso gemini Bello gemini Granata al mangiata Bel gemini Un operatore alleato Rimasto E niente Se la sovventa Hanno fatto stra bene Questo che Pinghetta Fa cose Eccoci Diciamo che Il ritorno di montagna Non è stato così Utile Utile Ecco Ho fatto una kill decente Ho battuto una persona Sono contento Questa è fortissima Mi piace tantissimo Ragazzi Osa mi piace davvero tanto Granate come se non ci fossero domani Granate come se non ci fossero domani Eh ma sono rimasti 50 secondi Raga Attaccante neutralizzato Guarda che mira che hanno Guarda che mira che hanno Guarda che mira che hanno Raga a me mi dispiace per chi mi troverà in partita Perché Qui è un disastro Raga qui è un disastro Veramente Qui è un disastro Qui è un disastro Mamma mia Cioè Fatgat ha giocato Molto meglio di me Molto meglio di me Raga Vi voglio bene Scusatemi per queste partite Davvero Ingloriose Grazie Grazie Grazie